Per quello che ti ho detto, ah ecco, lascialo che... piano eh, rallenta un po', rallenta un po' che vuole fare la foto, dai. È il Danubio? È qui a Bulgaria, va? È bene, è bene. Hai fatto così la foto? Fallo qua. Bulgaria, sì, stai grabando video. L'hai fatta? Video. Ah, bravo, bravo. Quindi posso cogerle le foto, poi. Sposta anche qua la mancetto, fai la foto anche di là. Pensiamo che faccio la... Dai, dai, dà, che mergo mai in chat. Beh, che dà in chat, sono? Mergo stupi qua in chat. Non c'è la ragucia? Oricchè in finale, dacă ti găsesti telefonul, ti il pune undeva. Acuna, dici, non ti lea nimeni. C'è Finland a mot. C'è l'argi, dà tu ti-ai inspirato, dà il mai gasei, dici că ti-ai intors in cea. Grazie a tutti.